Ciao a tutti e benvenuti sono Leferri e oggi finalmente voglio iniziare quel capolavoro a detta di tanti di A Plague Tale Innocence, ovvero un gioco in prima persona prettamente stealth mi verrebbe da dire, una sorta di avventura che ci farà esplorare il legame tra una madre o una figlia mi pare, se non ricordo male durante appunto l'epoca della peste nera, quindi qualcosa di unico direi Nuova partita, uscita audio, sandbar, cassisterio, no, io ho le cuffie, ok, perfetto, proviamo Dovrebbe essere qualcosa di meraviglioso, è tipo una rivelazione di quest'anno che onestamente poche persone si aspettavano, io onestamente l'ho scoperto qualche giorno dopo al lancio e non l'ho potuto prendere per motivi diciamo economici, ecco, non riesco a comprare ogni giorno al day one, purtroppo, vorrei farlo, qui l'avrei fatto onestamente, ecco, avevo già fatto altre spese e di cui mi sono pentito fra l'altro però, è inutile rivangare il passato Regno di Francia Sì Graficamente sembra bellissimo Non è che sembra E' bellissimo effettivamente E mi manca ancora tanto così Per farlo girare al massimo delle impostazioni Che bello che è Mamma mia sembra veramente di essere qui Wow Guarda Leo Il guion beast è in a hurry To fight it out Ha ha Tu beast thinks With its stomach As usual Well there's something You both have in common That's harsh Go on boy You'll find the prey I believe in you Che meraviglia Your mother's ribbon Is still here This is where I courted her You know Yes father I know If only she could come with us We all have obligations Amicia You know In a family Hey I'm trying I'm trying to tell her something Such authority Knight Tarun Go Bring something back for once Right As I was saying We all have obligations I have to manage these lands Your mother has to take care of your brother And you And I hardly ever see you I see mother even less Listen We are here for you now So Follow me daughter Hey Wait Prochiamo Io onestamente Ho iniziato questo gioco A pacchetto chiuso Spero di ne aver detto Una fesseria Amicia De Bruin Fares nothing This apple tree Was planted When you were born It will prove your worth Sir Knight What are the terms of the test The sacred apples Of the Sacred apple tree Have been Corrupted by a great Evil If you destroy Six of these rotten apples By the time I count to ten I will make you A night I accept your challenge I can see some stones Near the trunk over there Go and get them And tell me when you're ready Ok Adesso I'll show you I'm not a child anymore All right Come back Stand behind Adesso veramente Messo la grafica al massimo Mancavano un po' di ombre Un po' di illuminazione Però visto che il sistema regge Per cui è bene Allora Tieni premuto Per caricare il colpo E rilascia per scagliare Vai Wow Wow Grazie Addirittura Siamo più veloci noi Ok Leo Wait for me Leo A hunting dog Is not supposed to lose its hunter E' vero Leo Where did he go? Ah There you are Mi sa che non è mica il coniglio Però Mi sa che non è mica il coniglio però Eh Sì ma con una fionda Uccidere il cinghiale Resta accovacciato Tenendo premuto C Eeeh Non le vedo Dobbiamo trovare le rocce Ha detto No Ho capito ma Ma come ho fatto a vedermi da là Vabbè ok No ci sta in realtà Ah Eh vabbè Mi hanno detto accovacciati Vai nell'erba E dopo mezz'ora Mi hanno detto Ti mancano le rocce Eeeh Cuidate Tu devi agir Per la head Sto 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 Ma 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 l'arbono No beba Ah Po prigmi tipo Ma 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 Sto Proviamo così dai Mira automatica tipo Che strano Poverina Ma Il Non 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 Guglian Non perde il si sente che è un inglese parlato da francesi però vabbè ci sta dai sta diventando molto tetro qui erano erano praticamente nuovi mamma mia sta prendendo una svolta decisamente cupa no no non dirmi che mi hanno ucciso il cane Leo sono qui sono venuto no no non No, 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 no. Sì, sicuro. Io amo i cani, quella scena mi ha ucciso Trova Beatrice Sembrerebbe quasi un poligono di tiro questo qua Infatti, era proprio un poligono di tiro quello lì Leo, se solo io arrivò più velocemente Oh, saremmo ucciso quello che ti ha fatto Theo, c'è un'emergenza Prendete gli altri e vai a vedere il mio padre come potete, certo? Allora, peraltro, ho impostato alcuni target per il tuo sling dietro le staglie Oh, grazie Ho già approfittato, mi è piaciuto un sacco, grazie Bello il cavallino Mi sa che questo gioco farà piangere Eh, già Va bene, troviamo Beatrice, presumo sia... Oh, che bel maialone Oh, che belli Che belli Ogni tanto c'è qualche calo Oh, Maria Amicia, avevi un buon cammino? Dopo, Flo, diciamo agli altri che la foresta è fuori di bambino fino a più notizia Oh, sì, lo dirò Non siamo molto preoccupati Dei lasciare, ah, questa bambina rinco trinco Poverina Poverina Che lei perdere un cane Poi in quella maniera lì Mamma mia No Sì, spero che la madre non è troppo preoccupata Ah, questa bambina non durerà lì La bambina ha già bruciato la foresta La gente stia a morire Dio di angelo Siamo fortunati di essere in questa casa Parca le mie parole È qualcosa di meraviglioso da vedere comunque YouTube non gli rende giustizia, ve lo assicuro Ah, Gabriele La mia madre è qui Sì, ha spiegato la notte lì Il piccolo ha avuto un'altra delle attacche Non sarà in un buon mood Vediamo se intendeva questa porta Voilà Eh no Di là, allora Scattare non possiamo Vampiri Non credo Cioè non mi risulta dopo Se ci sono veramente Cascherei dalle nuvole in quel caso Mmm, cinnamon L'ho quasi scoperto cosa riempia Sì, erano giusti Il padre mettere in ogni piatto Ah Che sia un collezionabile quello lì Cioè Il senso di immersioni in questo gioco è bellissimo eh Sembra veramente di essere qui A quel tempo Fantastico Comunque qua ci siamo già stati Vediamo un attimo di qua allora Oh Sì 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 Lascia Luiz Ok Vediamo Che sia questo il mio letto Qui cosa c'è? Oh Leon Che cosa faccio qui senza te? Oh che bella Curiosità 2 di 26 Eh si sono collezionabili ragazzi questi qua Tovaglia Spezie Dopo leggiamo eh Grazie mille Mi sembra una brava persona Penso che c'è camera dei suoi genitori Probabile vero Andiamo dalla mamma Beatrice E' una bella donna Che succede? Comunque non sembra molto simpatica come donna Ah vuoi vedere che è l'ora che era Il rapporto che dicevo io ad approfondire non è con sua mamma ma con suo fratello Prova Yugo Arrivo Chiudiamo qua intanto eh Lì dentro è Lì dietro anzi Scusate volevo interagire in qualche modo No ma non c'è niente da fare qua ok Questa porta qua è chiusa? Perfetto E che rimanga chiusa Oh che bel bambino E' me Tu sista Amicia Ciao Non abbiamo visto un'altra Mami Siamo tornata Perfetto Perfetto Quindi questo bambino è malato da 4-5 anni Per quello che non conosce sua sorella immagino Did he talk? No lord Nicholas He killed two of our men Where is he? I won't ask again Where is your son? In good hands Touch the house Oh cavolo Yugo Come here What's happening? Shh I know you're here kid I don't have time to play games Where have they hidden him? Let's go Now Where is mommy? Shh Stay down Hugo It's me Gabrielle Come here quickly Hey you What the hell are you doing? Let's go Oh porca vacca Oh no Lea I don't know anything There you go That'll teach you No I'm begging you Hugo's not here And you Stay Come on Very clear Tell me Where is Hugo The rune Oh my god I have to find mother She'll She'll know Oh my god Luiz Think it's funny Making me run like that I miss you Please No No We need to move Don't look Please have a higher power No 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 Luiz We have to keep going Don't make me hurt you again I have no idea No Pensavo di dover scavalcare Ma no Non mi posso alzare Questo qua è il massimo della velocità Mamma mia Che ansia Che tensione Che tristezza Oh porca vacca Do you think you're going My children What is happening? We will be alright Do you hear me? Come on If you go Take your sister's hand I'll go first And you just have to follow me All right Si proviamo Si proviamo Se lascia Se lascia Yugo Da solo andrà in panico We won't be able to see us Wait Mommy Shh Shh Hey I've got another one Who is it? The gardener Knows the family well Says he watched the kids grow up Yes The little one loves flowers I used to take him son Flowers You can do better than that Take him Ha funzionato! Pini Khoji? Si, 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 levo un capito Levo un capito, ok Il è la grande inquisitor's right hand La Guarda non mai ha mai the informato di più, capitano Devo vedere. Allora, i establishi Let's go Be right back Be careful, you never know We can't go Mother Maybe by throwing one of these pots Really? The noise will attract him We'll slip past behind his back All right Ah, quindi la roccia sugli oggetti attira Altrimenti i vasi sono Come su Days Gone che sto giocando parallelamente Vi fanno vedere quali nemici attira Quello lì in questo caso Vai Porca vacca Eh no, vabbè, ok Eh, beh, sono innazzato troppo presto, vabbè, scusate Fail Eh, non sono mica stupidi i nemici qua, eh Giustamente, è vero Cacchio, ho lanciato un vaso Eh, ho un sasso, sono un imbecille Lui gli avrei rotto la testa, onestamente Però Oh, è innazzato da l'altra parte Mamma, la scena in la piazza Si, Hugo, mi sono scusate I know you're scared, ma If you get through there, you can open the door for us You're the only one who can do it What's behind there? Just concentrate on the door You're a brave boy, you prove it to me every day Amicia is going to let go of your hand Then you can quickly go through, all right? All right Ah, adesso ci apre la porta, ho capito Vabbè, ha senso Bravissimo Bastardi Petrice, dove andiamo? Follow me Wait, I'm coming Amicia, you have to help him next time Sorry Ow, my head What is wrong with him? An attack Listen to the voice, Hugo I know how this goes My eyes My head Listen to me Breathe Think of the cloud that you breathe in And we don't have to Poverino Out 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 Sì, c'è l'aiuto. Grazie. Possiamo andare ora. È troppo rischio con Hugo. È più semplice di noi. Ci sono tanti all'interno. Potrei riusciare, fare una diverzione. Solo. Sì, dovresti avere più tempo. Potrei sapere quando è bene. Be molto attenzione. Lo lanciamo là allora, va bene. Vai! Vai, veloci. Bravissimi. Solo un bacio alla volta, purtroppo. Rocce. Che cosa era? Quindi adesso appena si gira. Andiamo noi. Bellissimo come tutorial, comunque. Dai, girati. Mamma mia per un pelo. Poverini, tutti morti sono. I nostri collaboratori. Persone che ci hanno servito per una vita. Che non si sono vendute. Hanno preferito morire. No. No. Sono qui. Amicia. Amicia. Tu devi portare il tuo aboglio a Laurentiis. Il dottore? Sì. Il mi aiutato a curare a Hugo. Il viagrava a te. E... Cosa per te? Tu devi andare. Non bisogna me, Amicia. Tu sei. Ma io bisogna. Io bisogna. Hai. Cosa per me? Chi? Chi? Uppi. Ma, non. Ma. Se faccio. Eccolo. Sì. Chu. Mamma mia Aiuto Mamma non c'è più purtroppo Aiuto Mamma mia che storia Che storia Un primo capitolo che è un crescendo di emozioni Ciò che così ne fanno pochi purtroppo Mamma mia La città deve essere più altissima Al qualcuno lì dovrebbe aiutare a trovare le renti Forse è un attacco Cerca aiuto Bene ragazzi Noi qui chiudiamo la puntata Domani prossima puntata ovviamente Un gioco che sembrerebbe essere stupendo Stupendo Grazie alla prossima Grazie a tutti